Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ah no, ho chiesto una cosa Sex machine, what? Minchia ma c'è una striscia di merda nel cesso che è il chilometro Guardate che bella giornatina che c'è oggi Guardate anche voi come me, vi alzate alle 5 della mattina e sparate un best Vabbè, boia, non mi sto a fare un bistecco, non mi sto a grattare la gamba Questo era pesante eh Questo era pesante Io non... No, perché allora, adesso quello che dirò potrà essere, siccome loro hanno inquinato Dai, dai Quello che stavo per dire perché... Sì, senti delle merde No, senti delle merde perché io, io di base, vai Cioè, adesso, va bene le live, va bene la gag e tutto quanto Però, voi fate tutti gli splendidi del cazzo Quando a gennaio mi è capitato di vedere questa ragazza sulle live di TikTok di Ossanto Abbraccio di cupo Aspetta No, sono stato zitto ragazzi, perché se voi fate questi bicchiini di merda da bambini, io sto zitto Posso chiederti questo? Mio, ma è... Acqua insieme a un bicchiere No, io posso chiederti un bicchiere di acqua naturale Però non so il bicchiere Funzionerà sicuro Francesca Niente Ma... Ma... Non so come deve fare Sai come deve fare? Come? Deve aprire una canzone Deve far andare una canzone Ah, quindi si sblocca? Perché adesso è bloccato? Cosa è un iPhone 4? Ho detto Brunoni Era giusto per creare una parola D'accordo Cioè, che fossi diventami d'accordo A te zio, buon lunedì Buon lunedì Grazie, buon lunedì anche a te Spero che tu lo passerei davvero bene Faccio come fa nonna Luigina Tu sai che è nonna Luigina, vero? Sì... Ma tu lo sai che lei mi segue? Cioè, siamo amici su TikTok Guarda, aspetta Vuoi vedere che faccio una cosa? Eh? Guarda Sai che cosa sto per fare? No Non commentare quello che faccio Ma tipo... No, di solo una... Oh, hai rovesciato il tuo bicchiere Non è vuoto No, cazzo C'è tutto il lago di Gamba Eh, vabbè In due con la torce Per dimostrare che... Però se mi fai... No, Simo Raga, c'è qua tipo... Cosa c'è zio? Mi hai fatto sentire qua? Cosa c'è? Prendi questa... Guarda cosa usa No, no, dai È una spugna, è una spugna Ho capito Ho capito Oh, ma vaffanculo Che cazzo Poi ti dico l'altro Sì Pijama, eh Ma che pigiama? È la maglia... La maglietta Sarà di Octopus È un jersey kit Mamma mia Pijama Oh, ti sei preso un'amica mia Per fare il video su Urcoso Il video della canzone Bravo Non parlo più io Io non voglio stare dove... Amica tua? Sì Nina, quella che è proprio di rosa No, io no Ah, Nina Capito, sì, simpatica Mi siamo bigliati Pasta, 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 pasta Ma la madonna, ma quanto... Oddio Eh, ho fatto... 250 grammi Eh, minchia Ma scusami, ma... Tu tieni la fiamma alta quando cucini la pasta? Come? Tu tieni la fiamma alta quando la pasta sta bollendo? Non è fiamma alta Ha induzione Tiene al massimo E in più... Tu non hai mai pensato di rifartelo il naso? Ovvio che ci ho pensato Ma per il semplice fatto che tutte le persone comunque... Mi dicono... Cioè, mi insultano, mi prendono in giro per questa cosa Ma io sono dell'idea che... In giro Più è giusto che io ce l'abbia Perché è proprio una meno particolare Sei così unica Wow, grazie No Volevo chiederti Hai fatto pace? Aspetta Voglio fare una domanda in realtà a tutte Ci siamo baciati in bocca Sì Vuoi baciare anche me in bocca? No, fidati No, raga Miseria, ragazzi Certo Io non l'ho visto Cioè, ho visto da lì Ma basta, però Riplichiamo tutto E che non è che? Non è che? Non è che? Finirà la live, no? E... Lisa si girerà verso di te Alice e ti chiederà Cosa ne pensi di Grimbaud? Cosa risponderai? Succederà, eh Giotti Pass Tranquillamente Martina era bomba Tranquilla che ti passo anch'io Martina Vai a cagare Ma... Ma Giotti Cosa? Ho sbagliato Sto scherzando Non so perché mi è uscita sta cosa Ho sbagliato Ho sbagliato, ho sbagliato Scusate Comunque Martina prima mi bombava Eh... Era in difficoltà con... Con Luca Campolungone Vabbè Io non ci capisco niente Ti metto qualsiasi colore addosso Perché mi piace a prescindere da... Tipo blu elettrico mi sta malissimo Per esempio, no? Ok Però mi sta bene tipo il beige L'arancione No, scusa Mi sto mettendo la chat Cioè, adesso non è che sei al centro del mondo No, ho capito Cioè, sento una presenza qua Minta Mente Masatona Ah, mi stavo leggendo i commenti però Ma tanto qui tu Gaia Indy per cui Se te la senti Verresti qua a fare la live insieme a Ancajody? Sì, diretti di Sydney C'è porto Gaia Gaia chi? Sì, cazzo No, nel senso Ringraziamo tantissimo Alice Camilla Gabriella E Gaia Garavaglia Allora, voglio sottolineare che questa qua era una live molto, come potete vedere anche dalla presenza che c'è sullo schermo molto Femminile Casuale, femminile Potete trovare tante giustificazioni per descriverla C'era un'altra per caso Ma... Era una live molto... Molto così Mi interessi I tuoi interessi hai? Giudi Ma parlate tra... No, Gaia Roya Tutti Adesso Oh, bene eh Bene eh Bene eh Bene eh Bene eh Bene eh Dai Aia Aia Sì queste sono le cose che fanno incazzare Hai ragione scusa Hai ragione scusa Stai per fare Enrico Finazzi Sì Un salutone No, no ragazzi Ragazzi C'è un ragazzo super Super Voglio chiederti Ehm...come ti vedi tra dieci anni? Sbagliata Morta Con della... Con l'ulcera Con l'ulcera Morta raga Ehm... Sposata Spero con un figlio Tra dieci anni quindi ne va alle 29? Sì Vita a 29 ti vedi sposata? Con un figlio Sì A 29 anni con un figlio? Sì Maschio o femmina? A che ora? Non lo so No, quando? Tra dieci anni Tra dieci anni Tra dieci anni sposata con un figlio Oh, io sono fertile eh Sembra un po' Sembra un po' esagerata Cosa ridi di Muzzolona? Hai detto una cosa... Molesta No, no, no Io non ho detto mai Però non ci sta provando Tranquilli Non ci sta provando No, ma infatti... È una battuta Ma infatti ho detto che non ci stai provando Beh, oddio eh È finito? Guarda, io... Io la terei vinta al Don Lago nella piega Che pazzo è gatto Che pazzo è gatto